Ciao ragazzi, grazie per le domande che mi avete inoltrato ed ora risponderò a qualcuna di queste. Da quando ho memoria io ho sempre visto palazzetti, palle da basket, partite, perché il basket è sempre stato nel DNA della mia famiglia e quindi per me è stato naturale, spontaneo, aggregarmi a lui e ai suoi amici quando giocavano nel cortile sotto casa, per dire. Se come il tifo volivese non ce ne sono tanti in giro per l'Italia, per lo meno per l'esperienza che ho accumulato io, ricordi di quando venivo a giocare a Forlì derby con Imola, per noi avversari entrare a parafiera era veramente un inferno sportivamente parlando ed è proprio questo calore, questo entusiasmo, questa spinta che il pubblico riesce a dare alla squadra è stato una delle grandi motivazioni per cui ho deciso di tornare a giocare a Forlì, di riuscire a vincere in un ambiente che si gasa, che ti gasa, che ti spinge oltre i tuoi limiti, per me appunto funge da grande stimolo per andare sempre oltre e provare a portarlo dalla nostra parte. Il 33 perché è un numero che quest'anno si associa bene a me e alla mia famiglia, quanto io e mia moglie abbiamo compiuto 33 anni quest'anno e lei è nata il 3 marzo, poi perché abbiamo tre figli ecco. È un numero legato alla mia famiglia. Mio figlio Dante sta bene, ormai ha due mesi, questa quarantena forzata insomma c'è il lato positivo che posso godermi lui e gli altri miei due bambini. Ogni giorno, in ogni passo, in questa brutta situazione è una grande fortuna per me. Sicuramente il fatto che sia una città vivibile, adatta alla famiglia, poi il fatto che la società è una società ambiziosa, una società sana, che ha grande voglia di crescere e seria, come ha dimostrato negli ultimi anni, che ogni anno punta sempre più in alto, senza però mai fare il passo più lungo della gamba, come ha dimostrato anche in questa stagione, insomma, perché stavamo andando alla grande. Quest'anno direi sicuramente Charles Thomas, l'americano di Ravenna, un bestione che anche quando ti sembra di aver fatto un'ottima difesa su di lui, lui aveva sempre il modo di fregarti, di aggirarti. In carriera direi Marcus Landry, un americano con cui ho avuto modo di giocare a Brescia per sei mesi in A1. Un fisico normalissimo, ma un'intelligenza e delle mani di un livello superiore. Penso che la squadra abbia dimostrato di essere una vera squadra, oltre ad essere ottimi giocatori, di essere una vera squadra nei momenti delicati che abbiamo attraversato in questa stagione, in cui invece di affondare con l'acqua alla bola ci siamo sempre ritirati su di squadra, lavorando l'un per l'altro. Questo grande merito va anche al nostro coach Sandro e al suo spirito, insomma. Credo sia riuscito a trasmetterci tutta la sua voglia, il suo orgoglio di fermare gli avversari, che se vogliono segnare devono sputare sangue. E questo soprattutto da gennaio in poi si è visto amorosamente, insomma. Cerco di isolarmi il più possibile dall'ambiente esterno, dalle situazioni, da quelle che è successo in azione prima. Non sono né il più alto, né il più grosso, né quello che salta di più, né quello che spinge di più. Quindi cerco magari di essere più furbo, più intelligente, di riuscire a essere più rapido dei miei pari ruolo. Mi devo arranciare in qualche modo, ecco. Io cerco solo di dimostrare ogni partita di essere migliore dei miei avversari pari ruolo. Mi manchi, mi manchi tanto, non passa il giorno in cui non ti pensi. Torneremo presto a divertirci insieme, dai! Ciao Pierre!